Ben ritrovati ragazzi in questo nuovissimo video, oggi siamo qui per le pagelle di Manchester United Chelsea finita 1-1 Allora un incontro, un incontro che non mi ha deluso perché io mi aspettavo di perdere, mi aspettavo di prendere l'imbarcata e invece non è successo, per me il Manchester United ha giocato bene e continua a rimanere di quell'idea per me il Manchester United meritava di vincere per la situazione, per quello che abbiamo creato, per le occasioni che ci siamo mangiati quindi io questa cosa l'ho già detta nel post partita, ne abbiamo parlato in maniera molto molto dettagliata vi invito ad andare a recuperarlo il post partita se non l'avete visto, lo trovate ovviamente su questo canale io direi di non perdermi in chiacchiere inutili e di iniziare subito con il portiere Onana, voto 6 non ha fatto granché, né in gestione né a livello di parate, di interventi abbiamo subito una rete, non per colpa sua, lui non poteva fare nulla, si poteva realizzare il miracolo però non ci è riuscito ma non gliene do una colpa in generale non ha mai sofferto gli attacchi del Chelsea sì, perché le poche volte che il Chelsea ha attaccato ha sempre poi tirato fuori l'unica azione estremamente pericolosa togliendo il gol di Caicedo è stato il palo se non erro di Fofanà ma in generale il Chelsea non è che abbia colpito Onana Onana è stato veramente uno spettatore non pagante del match se così possiamo dire quindi per me il 6 politico ci può stare poi alcuni potranno anche dire vabbè ha subito la rete, gli Arno dagli 5 e mezzo sì, come ragionamento non è sbagliato ma se poi andiamo a vedere che il gol non è stata colpa sua io il 5 e mezzo non glielo voglio dare però se gli volete dare 5 e mezzo, dategli 5 e mezzo Dalò 5 e mezzo forse è l'unico del reparto difensivo che non mi è piaciuto perché poi andremo a parlare degli altri giocatori che hanno giocato nel reparto difensivo Dalò è quello che non mi è piaciuto Dalò è l'unico che non mi è piaciuto, è l'unico che ha preso l'insufficienza sempre parlando del reparto difensivo, non lo so ragazzi non mi convince, è un paio di partite che sembra un po' sottotono ovviamente con il Chelsea è in netta ripresa soprattutto se andiamo a confrontare la prestazione fatta contro i Blues a quella fatta contro West Ham assolutamente, ha fatto sicuramente molte più cose positive però mi aspetto di più sinceramente mi aspetto di più dal ormai probabile nostro terzino titolare sul 3-4-3 perché se dovessimo passare al 3-4-3 io non credo che Amorì si privi di Dalò quindi io mi auguro che questo ragazzo possa con Amorì crescere soprattutto a livello mentale perché per me i più grandi problemi di Dalò provengono proprio dal suo cervello non nel senso che è stupido ma nel senso che ha una mentalità non da grande giocatore ma può cambiarla io mi auguro che ci riesca De Ligt e Martinez De Ligt voto 7 fa una partita estremamente solida il suo obiettivo era solo uno bloccare Jackson bloccare le ripartenze di Jackson bloccare le imbucate di Jackson e soprattutto cosa più importante evitare evitare assolutamente di lasciare la giocata libera a Palmer De Ligt ha operato in maniera perfetta perché Jackson ha toccato 4 palloni in croce non ha fatto assolutamente nulla e non è da sottovalutare perché Jackson veniva da un ottimo periodo a livello realizzativo De Ligt è riuscito letteralmente ad annullarlo e ha anche messo in serie difficoltà Palmer perché quando il centrocampista trequartista esterno ha un ruolo ragazzi Palmer non ricopre un ruolo Palmer è tutto il Chelsea cioè è tutto il reparto offensivo quindi non so neanche come identificarlo diciamo trequartista offensivo no per comodità quando il trequartista inglese del Chelsea ha approvato perché ha avuto delle occasioni possiamo dire non nitide ma ha avuto delle occasioni per arrivare in porta con il tiro De Ligt ci stava sempre ha sempre bloccato ha sempre messo in difficoltà Palmer quindi il suo compito l'ha fatto per me in maniera perfetta stesso discorso possiamo dire di Lisandro con mezzo voto in più perché a differenza di De Ligt nel secondo tempo si è preso sulle spalle lo United ha iniziato a spingere ha iniziato a mostrare le sue qualità da braccetto adesso io qui lo dico non vedo l'ora di vedere Lisandro in una difesa a tre perché per me è quel giocatore lì cioè per me ha le qualità ha gli attributi per ricoprire quel ruolo lì nel 3-4-3 di Amorì braccetto di sinistra di spinta perché poi l'allenatore portoese spinge molto i due braccetti in avanti quindi io non vedo l'ora secondo tempo perfetto primo tempo mi è piaciuto molto io non ho nulla da dire anche lui in netta ripresa speriamo che possa continuare così Masauri io non ho più le parole non le trovo neanche più non non so più che dire ragazzi cioè no veramente non so più che dire sinceramente non so più che dire è un animale un mostro un giocatore ingiocabile una carta rara un acquisto senza senso ovviamente in maniera positiva Masauri è è l'esempio che vi fa capire quanto io ne capisco di calcio zero io non ne capisco niente per questo tante volte quando subisco delle critiche anche pesanti no quando vado a valutare determinati giocatori io metto sempre tra virgolette le mani avanti e vi dico io parlo bene di quel determinato giocatore o ne parlo male se così possiamo dire non perché io mi senta superiore agli altri ma perché ho delle mie visioni cioè visioni ho dei delle mie valutazioni no ma allo stesso tempo sbaglio sbaglio molto sbaglio tantissimo e Masauri è uno dei più grandi esempi dei miei più grandi errori su questo canale perché a me io personalmente che l'ho messo tra io l'ho veramente messo come peggior acquisto dello United quest'estate si sta dimostrando il miglior acquisto di questa sessione stia è fottutamente incredibile col Chelsea ha fatto una partita no sense è stata questa la miglior partita di Masauri con la maglia dello United no perché ce ne sono tantissime altre che non lo so erano da nove è incredibilmente bellissimo da vedere non ho altri termini per definire la prestazione di Masauri contro il Chelsea epocale si è intascato Madweke nel primo tempo nel secondo tempo si è intascato Pedro Neto poi si è intascato anche Palmer perché quando Palmer provava ad attaccare sulla corsia sua non c'era niente che poteva fare niente incredibile incredibile cazzo sono veramente contento di essermi sbagliato perché mi sta dimostrando di essere un giocatore di un livello spaziale dubito cioè più che dubito ho i miei dubbi sul sistema Amory cioè non so dove potrebbe giocare c'è chi dice Braccetto questo poi ne parleremo bene quando uscirà il video analisi su Amory perché raga questo Masauri non se può levare a me non frega niente del sistema perché questo si adatta in tutte le posizioni cioè addirittura lo può emette anche difensore quindi l'allenatore portoghese deve trovare una soluzione perché non ci possiamo privare di questo giocatore non possiamo assolutamente Ugarte voto 7 ha faticato nei primi minuti ha sbagliato tanto nei primi minuti ha commesso degli errori molto molto gravi nei primi minuti gravi no però degli errori che un giocatore dello United non deve fare ma poi si è ripreso poi ha fatto per me dopo i primi 10-15 minuti di difficoltà ha fatto una bella prestazione dopo cioè dopo quei 15 minuti di problemi di adattamento diciamo così si è ripreso nettamente ha fatto degli interventi molto importanti ha chiuso molte ripartenze di Caicedo e Lava ha saputo chiudere quando ha potuto Palmer è stato veramente un giocatore molto importante nella fase difensiva e qualche volta si è spinto anche in avanti ha dato anche un piccolo contributo alla fase offensiva che non è assolutamente da sottovalutare quindi per me il 7 ci sta tutto altro giocatore mostruoso mostruoso Casemiro voto 8 mezzo voto in meta a Masauri a Masauri in confronto a Masauri per il semplice motivo che per me il terzino marocchino non può non vince l'MVP cioè non potete non dare a Masauri l'MVP proprio della partita il miglior giocatore del match cioè siate onesti con voi stessi come secondo classificato io ci metto Casemiro è stato letteralmente mostruoso e qui e qui mi collego sempre al solito discorso allo United il Manchester United ha bisogno di leader molti dicono che dentro lo spogliatoio dello United i leader non ci sono per me un leader all'interno dello United c'è e si chiama Casemiro l'atteggiamento di Casemiro ragazzi io non gli posso di niente ha sbagliato tante volte l'anno scorso quest'anno comunque ha fatto delle cazzate per esempio nella partita con Liverpool Mas è sempre impegnato si impegna sempre quando viene chiamato in causa sta zitto abbassa la testa e lavora sgride i compagni quando sbagliano ha una presenza in campo i giocatori lo ascoltano hanno paura perché hanno paura di Casemiro e questo è un bene perché è un giocatore molto professionale non è che hanno paura come era con Pogba che Pogba era diventato il leader dello spogliatoio ma come leader valeva zero valeva veramente zero perché non gliene fregava più un cazzo delle partite non gliene fregava più un cazzo di giocare a calcio non gliene fregava più niente di nulla e quindi trascinava nell'oblio anche tanti altri giocatori che venivano un po' trasportati Casemiro invece è un leader che vuole giocare che vuole incidere che vuole cambiare che vuole migliorare che vuole progredire con la squadra quindi anche lui io non riesco a privarmene in questo momento poi vedremo quello che succederà quando arriverà morì ma levarlo sarebbe veramente una pestimia in questo momento perché non raga io penso che tanti giocatori debbano stare in campo non tanto per il discorso tattico ma per il discorso di quello che ti porta a livello come abbiamo detto mentale cioè Casemiro ti porta grinta Casemiro è sprone i compagni è una presenza pesante molto importante e che ora sta giocando bene quindi ha tutti gli attributi per continuare così e spero che possa continuare così abbiamo assolutamente bisogno di lui nella partita Europa League giovedì e nella partita contro il Leicester di Premier League prima della pausa nazionale io spero ovviamente che possa mantenersi in forma Garnaccio 4 e mezzo io non mi voglio soffermattando su questo su questa pessima prestazione perché ha subito veramente tanto odio abbiamo affrontato ripeto tante volte cioè l'abbiamo detto fin troppe volte abbiamo molte volte discusso su Garnaccio sulla situazione il fatto che i tifosi chiedano ad un ragazzo di 20 anni di trascinare l'attacco di trascinare la squadra quindi per me questa cosa è totalmente sbagliata perché porta poi a odio porta a false aspettative perché la gente i tifosi si aspettano che Garnaccio ogni partita incida che Garnaccio ogni partita segni che Garnaccio ogni partita faccia la differenza purtroppo non è così perché a 20 anni stecca delle partite e questa contro il Cezi è stata abominevole abominevole non solo per le occasioni sbagliate perché questo può capitare lo sapete se fosse stato solo per le occasioni sbagliate io gli avrei dato 5-5 e mezzo perché sono cose che capitano per lo meno se tu hai sbagliato tante occasioni è perché tutte le sei create le occasioni quindi in quel caso non avrei dato un voto così basso ho dato 4-5 per l'atteggiamento per lo spirito del sacrificio io non so se avete avuto la fortuna di guardare ieri la partita tra Fulham e Brentford io ho avuto la fortuna di guardarla match spettacolare match condito da 2 gol alla fine di Wilson clamorosi riguardatela ragazzi andatela a recuperare se non l'avete vista l'atteggiamento di Mbemou un giocatore che non è che ha fatto una partita eccelsa contro il Fulham ma è un giocatore che quando attaccava il Fulham scendeva diventava addirittura terzino cioè pur di sostenere la squadra scalava scendeva in profondità per raddoppiare l'esterno del Fulham per raddoppiare il trequartista del Fulham io sta roba qui da carnaccio me l'aspetto perché quando tu nelle conferenze stampa quando tu nelle interviste mi dici io amo questo club io tifo per questo club io voglio bene a questo club io voglio restare a vita in questo club possono essere parole dette tanto per ma se le dici hanno un peso è lo stesso discorso che faccio con Rashford io non mi posso vedere un carnaccio che mi perde il pallone in maniera imbarazzante perché sbaglia proprio i tempi del passaggio e non torna indietro cioè non torna indietro lascia l'attaccante del Chelsea Pedro Neto in avanti cioè lo lascia andare lo lascia partire cioè questi non sono atteggiamenti che vanno giustificati non è non sei Ronaldo non sei cioè non stiamo parlando di quel giocatore lì cioè non stiamo parlando di un giocatore arrivato stiamo parlando di un giocatore che deve arrivare ma anche fossi un giocatore arrivato tu l'impegno ce lo devi sempre mettere io ho visto tanto impegno nella zona offensiva per cercare di segnare ma zero zero nella fase offensiva zero impegno per aiutare i compagni e questo non va bene il quattro e mezzo è principalmente per quello proseguiamo oddio si è spostato tutto scusate ragazzi siamo tutto storto proseguiamo con Rashford voto sei per me limitato troppo sulla zona di destra dobbiamo smetterla di farlo giocare a destra questo a destra non ci sa giocare e continua a giocare a destra però l'atteggiamento ce l'ha ho visto più voglia di difendere da parte di Rashford che di Carnaggio quindi il sei ce sta Bruno sette e mezzo segna rigore ma poi in generale fa una prestazione da leader anche lui nei momenti di difficoltà esce fuori ha vissuto un inizio di stagione veramente traumatico ma nei momenti di difficoltà esce fuori come un vero leader deve fare fa tre gol in due partite e cerca di trascinare la squadra io ho veramente poco da dire il sette e mezzo io lo do tutto perché ha corso a destra e a sinistra anche Hoilund sette e mezzo per lo stesso motivo De Bruno tanto sacrificio ragazzi cioè ha lavorato tantissimo spalla la porta poi sono d'accordo con il discorso di Berbatov non so se avete visto le parole di Berbatov più che l'intervista Berbatov ha detto grande lavoro spalla la porta giocatore che ha delle qualità ma non può essere utilizzato in quel modo e io sono completamente d'accordo Hoilund utilizzato come pivot come uomo come parabola per raccogliere smistare palloni è una delle cose più obbropriose che noi tifosi lo United possiamo vedere in questo momento perché Hoilund è un giocatore che va messo in porta va mandato in porta no che deve mandare in porta l'altri io spero che Amorì questa ma Amorì lo sa perché ha allenato Ghiogheres e sa come si lavora con un attaccante di quel tipo però è innegabile che ha fatto un lavoro clamoroso poi mi dispiace che lo stiamo utilizzando in modo totalmente sbagliato però lui risponde cioè lui dimostra di nuovo di essere un attaccante completo all'età di 20 anni 21 anni perché il lavoro che ti fa Hoilund spalla la porta Vlaovic o Simen questi giocatori qui non te lo fanno ma non è perché non te lo fanno perché non c'hanno voglia non te lo fanno perché non lo sanno fare quindi questo è un aspetto molto positivo di Hoilund però allo stesso tempo smettiamola di utilizzarlo in quel modo perché è una bestemmia è veramente una bestemmia chiudo con la panchina ragazzi in maniera molto veloce Zirze 5 c'è stato un contropiede dove lui poteva assolutamente segnare l'ha sciupato si è fatto recuperare in maniera vergognosa quindi il 5 io glielo do perché anche lui se deve svegliare capisco il momento brutto ma si deve svegliare Lindelof voto 6 entra fa il suo Diallo entra fa il suo anche lui quindi 6 e mezzo ma Nisteroi 7 io mi aderei pure l'8 però non vorrei esagerare io ho dato 7 ragazzi perché e dai l'ho detto anche nel post partita non me voglio ripete non è facile per un intermediario per un mister così giovane prendersi sulle spalle una squadra così disastrata e fa una vittoria un pareggio un pareggio contro una delle miglior squadre d'Europa perché a livello di forma il Chelsea sta molto bene partita preparata bene partita che va a raccogliere molto i semi che ha seminato in questi anni Tenag ma ma avevo visto una squadra estremamente più solida con le stesse indicazioni di Tenag ma la squadra è più solida ma io non so se è dovuto l'atteggiamento al gruppo o proprio a dei meccanismi che Van Nistelro ha inculcato in pochi giorni alla squadra ma io non ho visto un 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 Manchester United sbilanciato oppure debole nei contropiedi avversari l'ho visto equilibrato quindi partita preparata bene voi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e si avvicina sempre di più la nuova era non vedo l'ora io vi saluto vi ringrazio per la visione e alla prossima gente